buongiorno less niente nessuno avrebbe potuto impedirle di tornare da lui se hai voglia di raffare un indimenticabile grande classico chiudo il cancello figurina se mi ritorna a casa sua credo che tu abbia ragione per emozionarci sorridere e ora scusa se non mi sono accorto che ti pestavo un piede comuoverci elisabeth taylor povera lessi torna a casa lessi